Allora, come vedi, per farmi un uomo che io non me la sono sentita di vedere questa tragedia italiana sulla droga che iniziava e perciò mi invento, questo come vedi è sale, però uso gli strumenti americani, iniziamo per tagliarla la cannuccia, dopodiché a cui dico, la motivazione che tu sei venuto sotto mio invito, voglio dire, perché ci conosciamo, poi sai, non stavo bene, certo ci ho chiamato, mi ero stato dimesso dall'ospedale, Andrea ha voluto fare il fine del vernissage, fine del vernissage, e allora ha insistito e un po' mi sono innervosito, perché, ok, dai, perché non fai, ora cosa faccio come fine del vernissage da inferire, perché era una serata mondana, diciamo, di divertimento, allora ho tirato fuori il lavoro che ho fatto nel 99 con le nervose di Giovanni, è vero che io ho debutto col colore digitale, ma io ho debutato col colore, per il mio piacere, di mio studio, con questo lavoro del pretino, intitolato, come ero, poi insomma, il barbone, cose che si potevano evitare, come questo qua, la limona, dei sentatetto, quello che sia, ecco, nel settembre New York, l'hanno detto tutte, anche chi le ha voluto lì, questa qua, quella che tu fai a New York, giù in basso, dove c'è il peggio del peggio, c'è di tutto, perché è così, ma nel 99, vai a vedere adesso, sono stato ricoverato a queste ricerche al bannini, ero là, sono andato, guarda che buco, ieri quando sono venuto qua, col 105, sono passato davanti, sono voluto scendere, per guardare e osservare, non ci sono più gli italiani.